Benvenuto a Luca Mannori, nuovo arrivo a questa edizione di Reparentone 2014, ci racconti un po' le sue sensazioni di questo evento? Diciamo che è un grande evento, molta gente, gran bella gente, soddisfattissimo per essere qui per la prima volta, la gente ha risposto molto bene, soprattutto sulle novità e su quello che ho portato. Che prodotti ha portato qua a questa edizione? Allora, diciamo ho portato un progetto importante che aderisce a fare il panettone tutto l'anno, che si chiama For All Season, dove ogni stagione cambia gusto e cambia frutta all'interno del panettone. Poi ho portato il classico, che ormai è con me da 25 anni che lo produciamo e poi come novità il Seven, panettone Sette Veli, che rievoca la famosa torta Sette Veli, in cui io sono diventato campione del mondo nel 1997. Io mi congratulo con lei e mi auguro di ritrovarla anche l'anno prossimo. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi.